un saluto a tutti cari amici di youtube adesso parlare di una delle tante cose che vi può scioccare la una delle maschere più famose al mondo maschera italiana di venezia arlecchino la famosa maschera multicolore il famoso servo di due padroni che veniva quasi sempre bastonato ma anche lui bastonava agli altri molto spesso veniva associato a pulcinella anche se pulcinella è vestito tutto di bianco con una maschera nera però arlecchino a differenza di pulcinella a una grande differenza a un passato difficile un passato esoterico arlecchino secondo gli antichi celtici veniva chiamato arle king re arle cioè era il re dei degli elfi questo re degli elfi era un dio malvagio un demone che poi venne sconfitto dal dio dino più tardi arle king arle king è diventato hel king proprio il re dell'inferno sempre secondo la mitologia celtica nel medioevo questo hel king o arle king diventa alichino da danda lighieri che si che si inventa questo demone grottesco che un attacca brig che va sempre facendo a botte con gli altri demoni così come questo alichino inventato da danda lighieri nel nell'inferno che va sempre facendo a botte con tutti gli altri demoni anche arlecchino va facendo a botte con le altre maschere arlecchino è una delle maschere più amate in italia e al mondo ma non tutti sanno che arlecchino a questo passato esoterico a un lato scuro un lato da demone o diavolo attacca brig e diavolo crudele da arle king a hel king che poi diventa alichino e subito dopo arlecchino che tutti noi amiamo che simpatico alla maggior parte delle persone ovviamente questo prendetelo come a pari di una teoria perché l'ho presa da internet ma anche su una rivista che parlano di misteri su un mensile che parlano di misteri informatevi anche voi perché quello che ho letto io era tutto generico non amo fare io uno studio superficiale però sono approfondito che arlec king era proprio il re degli elfi che principalmente erano crudeli ma anche adesso gli altri sono visti come spiriti buoni noi abbiamo invuonito arlecchino mentre gli inglesi ci hanno incattivito babbo natale facendolo sembrare la personificazione del natale consumistico mentre noi abbiamo fatto di arlecchino un personaggio buffo un personaggio simpatico un'altra cosa che un'altra cosa che ha a che vedere con arlecchino si narra di un di uno schiavo ubriacone che era stato sorpreso a rubare nelle tasche di un merito estraneo e quindi è stato fatto salire su un asino con gli abiti rattoppati e raggrinziti di vario colore in modo che tutti lo dovevano deridere arlecchino ultimamente come noi sappiamo dal 1700 ad oggi e l'immagine del servo di due padroni talmente povero che non aveva soldi per rattoppare la sua veste quindi si mise le toppe l'uno di diverso colore da un altro diventando una maschera variopinta l'abito più bello di e colorato di tutte le altre maschere con questo che ho detto è proprio tutto un abbraccio dal gran mitico è proprio tutto un abbraccio dal gran mitico